Un referendum per dedicare una statua a Barbara D'Urso a Battipaglia. Lo ha proposto il geometra Damiano D'Andrea, secondo il quale Barbara rappresenta per i bambini la voce amica di una zia bella e buona, spiega a Salerno Notizie, un piccolo omaggio voluto anche dalla popolazione attraverso il sondaggio che tra breve sarà online. L'idea è di un basso rilievo creato da un gruppo di artigiani locali. Appuntamento in rete a settembre, ha concluso. Leggi anche, Barbara D'Urso fa il miracolo, il trash al GF vince e gli ascolti fanno boom.